Musica Quella del 14 marzo ad Ancona, Palazzo Limadù, sede Regione Marche, è stata un'occasione privilegiata per i numerosi partecipanti per approfondire alla presenza di dirigenti della Regione e dell'assessore al lavoro, istruzioni, formazione e sostegno alla famiglia della Giunta regionale Loretta Bravi le azioni messe in campo dall'ente nell'ambito del POR, il Programma Operativo Regionale 2014-2020 a valere sul Fondo Sociale Europeo. Una serie di misure e di interventi che lo stesso Assessore Bravi riassume così ai nostri microfoni. Il Fondo Sociale Europeo innanzitutto ha dei target ben precisi e sono i giovani, la famiglia, gli over, i soggetti svantaggiati, le politiche sociali e quindi si incrocia con un fabbisogno. Il problema e lo scopo dell'intera Giunta è quello di una formazione mirata e di un intervento mirato in questi target che ho detto. Noi abbiamo finora intercettato più di 10.000 persone con i nostri avvisi e abbiamo investito più di 30 milioni di euro. Intanto sto parlando della programmazione 2.17. Su questo poi si scagliona con precisione una progettualità, non solo tirocini, non solo borse, ma accompagnamento al lavoro e aiuta l'azienda. Questo è un grande faro, altrimenti diventiamo la società dei voucher e questo io non posso accettarlo, anche come insegnante, prima che come assessore per i giovani. Quindi stiamo facendo un lavoro su quattro fronti, tirocini, borse di studio, accompagnamento, aiuta l'azienda. Oltre a questo c'è stato un investimento molto forte del Fondo Sociale Europeo sull'inclusione sociale, la famiglia, i nidi, il sostegno alla genitorialità. Sugli over, e con over intendo 40, 50 ed oltre, stiamo lavorando con i centri per l'impiego per una ricollocazione mirata, un patto di servizio per cui questi disoccupati vengono presi in carico. Dice da lavorare molto, perché io non lo nascondo. Abbiamo bisogno di maggiore energia, di maggior professionalità, quindi anche questa grande riforma che è stata avviata dall'assessorato sui centri per l'impiego è proprio per rimotivare gli operatori e per arrivare agli unici due interlocutori che in questo momento sono privilegiati, aziende e scuola. In questa regione c'è un problema di occupazione femminile? C'è un problema di occupazione femminile, ma i dati vanno letti anche da vari punti di vista. Le donne rinunciano per la famiglia, rinunciano a lavorare per la famiglia, ecco perché il sostegno alla famiglia è estremamente importante. Anche se nelle piccole e medie imprese, micro imprese, l'eccellenza del ruolo apicale della donna è molto forte. Del resto noi abbiamo un'eccellenza e una creatività marchigiana che chiede un'innovazione, ma dentro la tradizione. E qui le donne sono state molto capaci. Le faccio un esempio. Di fronte al fallimento di alcune aziende, da me sono venute le donne per ricreare una micro imprese in dieci. Assessore, importante è anche la correlazione tra i diversi fondi, da quelli nazionali, passando per i regionali e ovviamente i sostegni che l'Europa mette a disposizione. Sì, veramente si incrociano in tre. Ci sono dei fondi nazionali, ci sono dei fondi regionali e dei fondi europei. Sui fondi nazionali cerchiamo di andare diretti ai territori. Tutte le risorse che abbiamo avuto sono state poi ripartite nei comuni per le scuole, per l'inclusione, in accordo con le parti sociali e con le associazioni di categoria, perché credo di aver fatto notevoli tavoli in questi anni con tutti gli stakeholder. E questa è una cosa principale, direi. Quella dei fondi regionali, del cofinanziamento, se faccio un esempio, la fascia 06, le borse di studio, lì la regione è stata presente, ma lo è ovunque, il cofinanziamento regionale c'è. Riguardo ai fondi europei, e questo riguarda le assessore donne, abbiamo fatto una convergenza di FESR, FSE, PSR, con le assessore Casini e Bora, proprio perché vi sono dei punti di frontiera. Le faccio anche qui degli esempi, le aree di crisi, industria 4.0, qua ci vuole l'innovazione ma ci vuole la formazione mirata. Quello che è chiesto a me, nel mio assessorato, è di alzare l'asticella. Questo lo avverto fortissimamente, c'è un cambio di mentalità e dobbiamo formare i giovani e i meno giovani secondo quelle competenze che le aziende ci chiedono, non che abbiamo in mente noi. Ecco che il seminario è stata la circostanza per fare il punto sullo stato dell'arte della programmazione europea e conoscere le opportunità offerte dai bandi attivi e quelli in uscita del Fondo Sociale Europeo Marche 2014-2020 su tre fronti. A parlare di istruzione e formazione con i relativi interventi per lo sviluppo del territorio è stata la dirigente Graziella Gattafoni. Più riusciamo a coinvolgere il mondo produttivo che si identifica nell'espressione formazione e far dialogare questo mondo con il mondo dell'istruzione e più saremo capaci di dare crescita e innovazione al nostro tessuto socio-economico e quindi ai nostri cittadini. Gli strumenti quali sono? Gli strumenti sono diversificati perché passiamo da interventi di tipo corsuale, azioni formative che sono finalizzate a valorizzare e ad accrescere le competenze professionali e quindi anche culturali dei cittadini, lavoratori ma anche dei giovani che riescono attraverso la formazione a coniugare le conoscenze accademiche, scusate il termine ma sintetizzo, che dà il mondo della scuola e quindi avremo dei professionisti, delle maestranze, dei tecnici qualificati per dare una spinta di competitività a 360 gradi alle nostre produzioni. politiche attive per il lavoro, soffermandosi su tirocini, borse lavoro e sostegno all'imprenditoria è stato invece il dirigente Fabio Montanini. Sono delle misure che in una situazione di crisi come questa la regione ha messo in campo per soprattutto aiutare i disoccupati a ricollocarsi nel mondo del lavoro. e i risultati occupazionali non sono male perché negli ultimi tre anni sono stati fatti decine di migliaia di tirocini e il 44,1% a fine tirocini ha avuto un contratto. Con la creazione di impresa abbiamo avuto l'ultimo bando 541 nuovi occupati e sulle bolse di lavoro alcune sono in corso ma su 925 già concluse 326 persone hanno avuto un contratto di lavoro. Le politiche sociali e relativi interventi attuati con i fondi europei sono stati infine i temi affrontati da Giovanni Santarelli che se ne occupa in Regione. Abbiamo avuto un importante coinvolgimento nei fondi FSI per la prima volta perché la prima programmazione 14-20 che prevede una specifica linea di intervento che è l'obiettivo tematico numero 9 sull'inclusione sociale. Noi abbiamo utilizzato questo obiettivo tematico 9 del POR per rafforzare il nostro sistema degli ambiti territoriali, per sostenere le famiglie giovani occupate entrambe attraverso l'attribuzione di voucher per l'accesso ai nidi di infanzia e abbiamo previsto un incremento notevole del pagamento delle indennità dei tirocini formative per soggetti in condizione di fragilità, oltre che il personale specifico per il tutoraggio di queste persone affinché in collaborazione che ci entri per l'impiego e con il quale stiamo collaborando in maniera molto efficace possono accedere a situazioni che possono soprattutto nel caso di famiglie in condizioni di povertà rendersi autonomi, ovviamente nel limite del possibile dell'attuale problema occupazionale, rendersi autonomi e poter uscire dalla situazione di povertà. Questi sono i due interventi, obiettivo 9.4, rafforzamento degli ambiti territoriali e sociali con personale aggiuntivo, l'obiettivo tematico 9.1, le indennità per i tirocini sono due grossi importantissimi interventi che hanno una disponibilità finanziaria superiore a 20 milioni di euro su cui abbiamo già messo in campo con dei bandi già pronti, già fatti trasferimenti agli ambiti sociali già concessi, ovviamente affrontando anche la complessità di rendicontazione e di gestione di questi fondi e quest'anno uscirà il bando per i tirocini informativi. Grazie a tutti!